Vi trovate bene in questo mercato? Io non monto sempre, quindi bene o male sì. Questa posizione è migliore rispetto a quella del Mandarai? Sì, certo. Magari là era più... sì, sì, ci sono più persone, ma il lavoro è sempre quello. È tutta un'altra cosa. Poi siamo sulla strada, ci sono più persone, anche se è un periodo un po' ancora che è il cambio stagione, però si vedono molto più persone che là non si vedevano da anni. Quindi là molti non venivano più, in quanto non prendevano neanche le spese. Se torniamo lì io non torno più, abbandono anche il posto, abbandono l'attività, non mi interessa venire a Messina, se rimaniamo qui sì invece. La gente mi trova meglio a me, parlo per me, perché lì dentro noi eravamo tipo abbandonati, dovevamo aspettare chi veniva. Qua a Messina non avete servizio pubblico e allora non fa bene, se c'erano i servizi pubblici, stare lì sopra potremmo anche stare. Siamo in un'area principale, dove siamo circondati dalla popolazione e quindi cambia tutto. Il vostro obiettivo è restare qui, perché era una situazione temporale. Speriamo, vedendo che non creiamo problemi con la viabilità, perché non ci potrebbero essere queste prospettive. Anche perché noi ci stiamo comportando abbastanza bene, le macchine possono circolare perché trovano pulito. Prima devono essere contenti loro per come si trovano qua. Io per dire la verità mi va bene così, fino adesso. Poi non lo so, in estate magari c'è più caldo, ma anche là si sentiva caldo, perché è un po' chiuso. Qua magari si respira meglio. Sì, per me va bene. Certo, non lo so per le persone che ci abitano. Per me va bene qua, perché c'è più scelta. Qua è più lineare, forse è un po' meglio, però hanno bloccato una strada importante di Messina, hanno bloccato un po' il traffico. La mia famiglia è da 40 anni che viene qua e qua ci troviamo bene, perché poi già quando cambia il mercato, noi che cambiamo il mercato è finita. Lì ci sono 150 famiglie che mangiano, cioè distruggi tu il lavoro di 150 persone. Perciò noi qua ci troviamo bene, stiamo cercando di lasciare tutto pulito, lasciare le strade delle macchine che possono scorrere tranquillamente, in modo che noi lavoriamo. Qua è comodo, come era una volta? A me viene comodo qua, sicuramente. Noi siamo di qua, quindi ci viene più comodo. E poi, bello ampio, è comodo, sì. Grazie. Grazie.